Dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo dove tra qualche istante avrà inizio la tesa partita semifinale regionale allievi tra lo Sport Village Tommaso Natale, squadra palermitana e l'Atletico Avola, squadra allenata da mister Michele Battaglia. Stadio bellissimo impianto sportivo per una bella sfida quest'oggi al Valentino Mazzola tra due tra le più forti squadre la via della rete ci prova adesso dalla lunga distanza un punizione lunga spiovente che arriva dalle parti di Loreto. Oraccio Basina ancora la difesa bianca azzurra va via Corrado Labruna attenta di un servizio primo calcio d'angolo a favore del rosso blu con attentato è un'azione pericolosa su spiovente traversa quanto siamo giunti. A favore dei palermitani con una palla scodellata in aria ed è stato Mastec le più forti squadre per quello dimostrato nel corso della lunga stagione e anche per le belle prestazioni. L'ottimo calcio non per questo ultimamente è stato inaugurato pure la San Cataldese ha inaugurato delle partite con il Catania e abbiamo visto anche giocatori di livello. Nel settore giovanile il suo fiore all'occhiello Corrado Labruna tenta di servire Orazio Basile di Palermo una gloriosa società e attenzione la Tommaso Natale passa in vantaggio il luogo calcio di punizione dalla parte sinistra e poi la palla che passa attraversa tutta la difesa rosso blu ed è stato Enna, Giacomo Enna di destro a perforare la retroguardia rosso blu Cazzurro palla che va fuori ed è Chiarello a cercare di servire un compagno palla che poi non viene intercettata da Marco Ci prova e attenzione ancora un errore della Tetu Gavola ancora un mezzo pasticcio dei difensioni centrali ed è stato bravo con il suo sinistro falanca a trafiggere ancora una volta Francesco Loreto e quindi assistiamo al raddoppio da parte del capitano Fenec ma è bravo, è bravissimo Ciccio Loreto Così ripartenza veloce, Basile va veloce sulla sinistra, cerca di superare un compagno, Scodello una palla in aria posizione dei suoi compagni, 4 rosso blu in aria di rigore, spiovente di Vincenzo Rametta palla che arriva dalle parti di Corrado Labruna, supera un diretto avversario Parisi, palla sulla sinistra per Fenec contrastato da Salvo Caruso Maso Natale sempre con il sinistro Vincenzo Rametta, palla scodellata, velenosa in aria palla che arriva dalle parti di Orazio Basile dopo una smanacciata Fenec fronteggiato da Salvo Rametta Anzi, alla formazione avolese, Fabio Parisi si scodella una palla lunghissima in aria di ricore esce con i pugni, Conticelli subisce fallo Manella A fine del primo tempo, risultato vi ricordo dal Valentino Mazzola di San Cataldo vede la Tommaso Natale in vantaggio per due rete a zero A risentirci ...di trovare i suoi compagni di gioco si porta una palla lunga che era nella zona d'attacco Marcellone risalta di testa e poi... ...rezione quindi per la Tommaso Natale con Enna che ha scodellato una palla in aria poi Vincenzo Rametta che avanza palla a piede poi serve Orazio Corrado Labruna si libera di un compagno, tenta la battuta Palo che riesce a partire, palla a piede si porta nella zona sinistra serve O tenta di servire Falanga Pallestro e la Tommaso Natale a portarsi in avanti con il mobile Schirò che scodella una pericolosa palla in aria ma ancora sempre Schirò che non riesce questa volta a superare Gianluca Liotta visto che vede la sua squadra in vantaggio per due rete a zero poi lancia lungo, vede Marco Leone che supera un primo difensore non riesce, attacco, tante maglie rosso-blu in aria salta Vincenzo Rametta, colpisce bene la palla cerca di fermare ancora una volta Schirò è bravo nella zona destra d'attacco serve ottimamente, serve ottimamente e viene annullato per posizione regolare un'assenza pesante tra le file rosso-blu così come ancora una volta il 10 Schirò palla, l'abitro fischia, palla altissima rimessa la tale lunghissima come al solito Marcello Neri colpisce di testa, sfiora di allargare su Caruso, non arriva sulla palla ma è la fata, palla a piede, a scodellare una pericolosissima sfera dalle parti calciatori nuovi, freschi Marco Leone ha una grossa occasione di destro a calcio all'indietro, un schema approvato poi si libera e ancora il nuovo entrato Bellante contro la CRMS fischia l'editore di gara e finisce così al Valentino Mazzola di San Cataldo il sogno, la speranza di una società, l'Atletico Aula che ha veramente impressionato quest'anno e anche quest'oggi nonostante la sconfitta dobbiamo dire che i ragazzi di Mister Battaglia hanno dimostrato veramente tutto il loro valore e quindi saranno i palermitani della Tommaso Natale ad accedere alla finalissima regionale contro la vincente dell'altra semifinale tra ACR Messina e Calcio Sicilia Grazie a tutti